Primo caso di tampone positivo per il coronavirus in Toscana a Firenze. L'uomo si è presentato spontaneamente all'ospedale di Santa Maria Nuova nel centro di Firenze. Nella notte il tampone analizzato all'ospedale di Careggi ha rivelato la presenza del Covid-19. Adesso si attende il risultato del secondo esame da parte dell'Istituto Superiore di Sanità. In qualche modo ce l'aspettavamo, anche perché la situazione epidemiologica del nord era tale che le persone che o hanno transitato in quelle zone, transitato frequentando comunque persone che vivono in quelle zone quarantenate o che vengono comunque da paesi esteri che hanno situazioni epidemiologiche importanti, vedi la Cina o la Corea, era una cosa che ci aspettavamo. In tal senso comunque sia la nostra azienda che di concerto con la regione toscana avevano già predisposto dei piani di allarme, comunque dei piani strategici che possono in qualche modo cercare di contenere il fenomeno. È ovvio che in queste situazioni una delle prime cose che viene fatta sono la valutazione dei contatti del paziente, che possono essere familiari, amici, colleghi di lavoro. In queste situazioni verranno messi in isolamento domiciliare e a seconda se hanno sintomi o meno decidere se fare il tampone a questi signori. Caso accertato? Uno è accertato, sì. Grazie. Grazie. Grazie.